Presenti 28, votanti 28. 17 voti favorevoli, 11 contrari e una densa nube di polemiche. Così è stata approvata la delibera comunale relativa ai servizi educativi per l'infanzia per il 2016-2017. Assunzione di 7 unità, affidamenti al privato sociale, convenzioni con tutti i soggetti presenti nel territorio. Questi i punti centrali contenuti nell'atto con la proroga dell'affidamento al privato sociale di quattro sezioni di scuola dell'infanzia e di una sezione di asilo, con scadenza prevista per settembre 2017. Oggi noi abbiamo fatto molte più assunzioni di prima, uno, due, questa oggi è una città al 100% a sistema integrato e cioè al 100% di libertà educativa. In un sistema dove i soggetti che erogano i servizi funzionano perché sono accreditati e quindi controllati, convenzionati e quindi abbracciati tutti dall'amministrazione comunale. Durante il dibattito in aula dura la presa di posizione del consigliere comunale PD Matteo Bracciali. Se noi perdiamo l'impianto generale che è quello che oggi tanti ha detto, ovvero convenzioniamo tutti, noi non facciamo differenze, il comune non può essere statalista da poter decidere gli indirizzi didattici, non poter dare anche un controllo delle standard di qualità, per cui noi convenzioniamo tutti, non ci interessa, l'importante è la risposta ai cittadini in termini di posti. In evidenza anche la questione della chiusura del nido cedro prevista per il prossimo giugno. Lido cedro aveva 19 bambini, ospitava 19 bambini di cui 17 hanno compiuto l'età necessaria per passare alla scuola materna e soltanto due sarebbero rimasti all'interno del nido cedro. Con due bambini non si può garantire un servizio, quindi abbiamo chiesto alle famiglie di poter far frequentare i loro bambini altre strutture accreditate nel comune di Arezzo, cosa che è avvenuta. Critico e in netto contrasto il punto di vista del comitato magliette gialle in difesa dei servizi all'infanzia del comune di Arezzo. Siamo sconcertati, apprendiamo che un asilo nido verrà chiuso a giugno nel 2016, non è stata data informazione alle maestre, i genitori non ne sapevano nulla, ne sono venuti a sapere a pezzettini, hanno chiesto un incontro con i genitori, non è avvenuto. Le comunicazioni che sono state fatte sono state le minime indispensabili.